Siamo qui con un'ora aderita al termine di questa grande vittoria dell'Empoli in casa della Pink Bari. Era una partita difficile però siete riusciti a vincerla e tra l'altro tu hai segnato la prima rete della tua carriera in Serie A. Qual è stata l'emozione di questo gol? Beh sicuramente è un'emozione grandissima soprattutto perché sono cresciuta con questa squadra e dopo tanti sacrifici è stato veramente bello comunque portare, dare una mano a questa squadra. E adesso questa squadra dopo questa vittoria dove può arrivare e quali sono i vostri obiettivi per il campionato? Beh sicuramente questa vittoria vuol dire tanto, possiamo arrivare nelle parti alti della classifica, ovviamente non dobbiamo fermarsi qua, però siamo pronte, siamo cariche e ora pensiamo alla prossima.